Avete presente quando in un cartone animato loro hanno qui un piatto, i protagonisti, e c'è dentro tipo una bistecca e nell'inquadratura successiva la bistecca scompare, però in un'altra inquadratura ricompare. Ecco, noi adesso, oggi vedremo un po' di esempi di questa cosa. Quindi, errori nei cartoni animati. Farò un po' schifo come video, visto che è il primo video di errori in cartoni animati che faccio. Ok? Quindi, direi di partire subito. Partiamo con Happy Tree Friends. Avete presente quella serie violenta che ho recensito per due volte di Mondomedia creata dal signor Navarro? Beh, ci sono molti errori in certe puntate, ma oggi andremo a vedere una in particolare. Nella prima puntata della serie TV. Lampi ha costruito male le montagne russe e gli self-shifty vanno fuori dalla pista, ovviamente. E Lampi li ricorre per tutte le montagne russe per salvarli. E fu qui, ok? Peccato che poi vengono catapultati. Vengono lanciati entrambi dritti dentro l'entrata del parco per trucidarli per bene. E vedete questo cestino a forma di lampi, un po' strano, che ricorda il cestino di Leolandia? Bene, ricordatevelo, perché non ci sarà per molto tempo. Infatti, quando Shifty viene fatto diventare una costoletta di maiale, un soprammobile, il cestino scompare. E non è finita qui, perché poi ricompare dopo la morte di Shifty. Ma la morte di Lifty dove è finita? Appunto. Quando anche Lifty viene ucciso insieme al fratello, il cestino scompare di nuovo. What the fuck? Ghost Bean Continuiamo con un cartone che non so se definire per bambini oppure no. Ah, Tutoriality l'Isola? Ricorda molto Squid Game, ma questo è uscito nel 2007, quindi molto prima di Squid Game. Anche perché il progetto originale di Squid Game era del 2008, ma adesso non stiamo a parlare di quella cosa. Ora, parliamo di questo cartone animato che c'è una parte per bambini con scene e tagli di scene e censure, ma su Netflix c'è una parte, ci sono due parti che non vengono trasmesse. Oh mio Dio, perché devo parlare di queste cose adesso, il pomeriggio? Ok, adesso, praticamente il capo, che non mi ricordo come si chiama, quello dello show, il presentatore, spiega ai partecipanti cos'è il confessionario italiano. E lo, vabbè, c'è Gwen che è sempre pessimista, quindi, beh, finora è un vero schifo. Ma adesso arriva il turno di un'altra ragazza che non mi ricordo il nome, visto che l'ho visto neanche una volta questo cartone qua. Non ho neanche finito il primo episodio, no, sì, il primo episodio è finito. Comunque, adesso vi faccio vedere una cosa che dice, io ho capito che cosa vuol dire, per chi non l'ha capito non voglio spiegarvi, se no mi chiedo il canale. Non capisco, dov'è il cameraman? Cosa, cosa, cosa? Ho capito bene, riascoltiamo. Non capisco, dov'è il cameraman? Pensavo che non mettessero già nel primo episodio una scena del genere. Continuiamo con Gumball, che per ora non è un cartone che mi faccia impazzire, dato che lo guardavo da bambino. Raccontano le vicende di un gatto blu e come portare adottivo a un pesce rosso. Lo so, guardavo proprio che è gatto da bambino. Però ho sempre adottato questo errore e me lo sono sempre ricordato con tutto il cuore, perché è un errore da pazzi che si poteva benissimo evitare. Siamo nell'episodio L'Intruso, adesso vi spiego. In questo episodio del fantastico Mondori Gumball, Gumball e Darwin pensano che ci sia qualcuno in casa. Infatti notano delle ombre, spariscono mobili e fin qui ok. Guardano nello scantinato e trovano il personaggio dimenticato della serie, Rob. Lui dalla paura scappa via e i due fratelli lo ricorrono per tutta la città e passano anche nel giardino del padre di Tobias Wilson, che sta tagliando l'erba. Però poi, cinque secondi dopo, gli infila per gli hot dog. Ma è flash. Torniamo a questo battle royal malato, a tutoriali dell'isola. Lo so, lo so, è stata appena fatta, ma qui c'è una battuta di Owen, che è quello con la maglietta bianca e la foglia blu, che proprio non è per bambini, adesso non avrebbe mai potuto capire, sentite. Menomale che siamo in una casetta per soli uomini, capite che intendo? Volevo dire no, ma che avete capito? A me piacciono le donne, ma non mi va di dormirci insieme. Nel senso! No comment. L'ho contato come errore, visto che è un cartone Cartoon Network e dovrebbe essere per bambini. E all'ultimo posto abbiamo Teen Titans Go, un cartone trasmesso su Boeing. Allora, tutti conosceranno i Teen Titans, ma per chi non lo conoscesse, questa squadra è un po' matta. I Teen Titans Go sono un po' davvero strani, ma a me non sono mai piaciuti. Comunque ho notato questo errore nell'episodio. Quello dei ricordi, vi ricordate, no? Quando vendono gli oggetti. E quando li vendono, sentite questa. I loro ricordi sono svaniti e il tempo si blocca. Beast Boy prova a interagire con questo uccello e cade sul tavolo. Completamente immobilizzato. Vanno in uno strano mondo per riprendersi i ricordi. E quando sistemano tutto, tornano a Jump City. E il tempo continua ad avanzare. Ma questo uccello è ancora in volo. Aspetta, ma che c... C'è no, avete notato anche voi, raga, che c'è quel quadra che non cosa. E niente, questi sono alcuni errori che sono riusciti ad individuare in tanti cartoni animati. Fatemi sapere se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale. E attivate la campanella degli avvisi per non perdervi nessun mio contenuto. E sì, erano evitabili questi errori. Soprattutto l'ultimo. Gli uccello. Soprattutto l'ultimo.